Che tutti noi conosciamo con il nome di Suore di Maria Babbina, sono presenti a Villanterio dal novembre 1890 e svolgono un servizio sociale di estrema importanza per la comunità civile, gestendo la scuola dell'infanzia Maria Babbina. Oggi è la giornata di assegnazione del terzo premio San Giorgio Villanterio, che verrà assegnato alle suore di carità che noi conosciamo meglio con il nome di Suore di Maria Babbina. Le suore a Villanterio sono presenti dalla fine dell'Ottocento, hanno sempre seguito i bambini con le scuole dell'infanzia e quindi nei decenni posso dire che sicuramente hanno visto passare nei loro edifici almeno 15-20 generazioni di villanteresi. Grazie a tutti. Diciamo che questo è uno dei simboli di Villanterio e noi ci auguriamo che loro possano essere presenti sul nostro territorio ancora per molti, molti anni. Voglio ringraziare certamente chi ha pensato a consegnare questo dono, questo premio al nostro istituto, alla nostra famiglia. Quindi grazie di cuore a chi ha pensato a questo dono. Io, ultima tra le suore arrivate a Villanterio, vivo con profonda gioia questo momento di riconoscimento per tutto il bene che il nostro istituto, le mie sorelle che mi hanno preceduta, hanno fatto. In modo ufficiale la pergamena fatta a mano del premio San Giorgio 2016 e la medaglia d'oro che è per voi. Grazie. 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 Grazie.